Sanat, fine c'è, sei e si, Padre veramente santo, con le vie di santità, e santità per noi, con le vie di un uomo, e che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore e di affrendersi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e lanciatele, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e venetele tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in revisione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Alleluia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.